Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi, come avrete ben letto dal titolo, ci siamo Siamo qui per giocare a PES 06 Ragazzi, il 2006 è stato un anno storico per noi italiani Perché siamo riusciti a conquistare il mondiale Ed è proprio oggi, infatti, che faremo un bel Italia-Francia Io mi scuso per la visuale, magari Perché purtroppo sto giocando da Xbox Avendo PES 06 soltanto da Xbox 360 E da Xbox 360 non si riesce in alcun modo a registrare video o clip Mamma mia ragazzi, Buffon 28 anni Nesta 30 Mamma mia, Cannavalo, Zambrotta, Grosso, Pirro, Camoranesi, Gattuso, Totti, Tongila Ragazzi, io direi di iniziare e non perder altro tempo Ragazzi, come, oddio Mamma mia, la visuale Ma, 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 no Che, oh, oddio Allora, in tanti contrasti, come si fanno? Ok, ho capito come si fanno le scivolate Ma speravo di capire No, già la Totti Ma come? No Ma, ma, vabbè Eh, no Regà, no Doppio giallo Totti Oh, oh, è sta grosso Mamma mia, Gigi, come si era buttata male No, dai No, 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 no Giallo è nesta Edgo Mamma mia, ma lei è una palla decente Vabbè ragazzi, adesso si va a chiamare l'inizio del secondo tempo Ok ragazzi, se non sbaglio Esatto No, raga, fate entrare la quinta Volevo fare entrare in zaghi Vedete, c'è proprio, è un disastro Sono un disastro in questo gioco No Gigi Grande Mamma mia ragazzi Però l'animazione dei portieri è altro che FIFA Oh No Raga, ho crossato No, go all'ultimo No, vai E vai Tempi supplementari Ok ragazzi, non me ne ero accorto Ma si è rotto Gia quinta, sì Gia quinta E l'ho fatto uscire Gigione Te l'ho detto La l'animazione dei portieri è tanta roba Ma No Cioè, io non ci credo E ma devo anche fareggiare Mamma Adesso devo anche rimontare Però io ci provo Sì, sì Ma dai Porco C'è al 105esimo mi ha segnato Zidane Ragazzi ho deciso di fare un'altra partita E adesso speriamo Abbiamo fatto Barcellona PSG Quando ancora il PSG non era nessuno Ragazzi, Barcellona con Ronaldinho e Messi Cioè Mamma mia Messi Ecco, vedete Via Un minuto di recupero Vai Vai Digno Digno Cacchio Avevo un'occasione L'ho giocato bene solo all'inizio Vabbè Adesso ti vediamo Nel secondo tempo Partono da loro Regà Nessun cambio da noi Non so da loro Penso Zero Vediamo No No E' con loro Ma Frau Vabbè Non è zero Gesù Che tirone Dai Digno Eh Sì Sì Dai Regà Merda Mamma mia Perché ho sentito bene Chimino Vabbè Io non so che dire Regà Se questo video Arriva a 10 Mi piace Faccio un altro video Su PS06 Ma vi prometto Che sarà migliore Cioè Mi alleno Prima del video Non è come stavolta Che tornavo a giocare Veramente Dopo 4 anni Vabbè Io vi saluto Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao raga